buongiorno dal villaggio polumbo qui siamo già operativi anche se fine stagione i periodi sono molto difficili siamo operativi con i panini le le moto slitte il percorso con i quad c'è l'hotel con la spa per i giovani per rilassarsi e fare qualcosa di bello questo è il bar dove facciamo i panini con salsiccia primi piatti poi possiamo partire un percorso con le moto slitte e quad abbiamo la seggio via il pala ghiaccio piste go kart e tanti altri divertimenti vi aspettiamo allora eccoci qui vi facciamo vedere la nostra flotta di moto slitte tutte moto nuove paesaggio stupendo incantevole possiamo fare sia il giro con la moto slitta o chi non gli piace la neve possiamo andare nel fango con i quad potete seguire su instagram la pagina explora quad e moto slitte così potete visionare tutti i nostri aggiornamenti e le nuove foto delle escursioni allora come potete vedere anche se non c'è molta gente noi qui abbiamo quasi un metro di neve questa qui è la parte più alta della nostra vetta si chiama cima bianca e siamo qui a 1680 metri d'altezza ci si può arrivare alla fine del nostro percorso con le moto slitte oppure potete arrivare grazie allo ski lift con gli sci e lo snowboard o con qualche ciaspolata per i più resistenti diciamo grazie 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 grazie